Commissario Cassarazzi, deve venire in quest'ora. Cos'è successo? È successa una disgrazia. Che cosa? Commissario, è meglio che venga subito in quest'ora. Ma perché? Mi devi dire che è successo. Che avete fatto? Che cazzo avete combinato? Non lo so, commissario, si è sentito male. All'improvviso è stato un malone. Siete pazzi? Siete tutti impazziti? Commissario, ci stanno ammazzando tutti. Uno a uno ci fanno due a due. Noi non siamo come loro! Non siamo come loro! Uncissario